Ciao amici di LEGO ITA, benvenuti in un nuovo video dove andremo a recensire un vero set LEGO da sogno, la macchina di ritorno al futuro, Back to the Future, il LEGO numero 10300, quindi 10300 per un totale di 1872 pezzi con batterie incluse ed è un LEGO che si rivolge a un pubblico dai 18 anni in su, quindi un LEGO rivolto ai maggiorenni. Benvenuti in un nuovo video qui su LEGO ITA, prima di andare avanti come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi recensioni come questa, nello stesso tempo mettete un bel like al video se vi è piaciuto e naturalmente condividetelo all'interno dei vostri social network se volete far conoscere il mondo dei LEGO. La macchina è stata lanciata l'1 aprile 2022 e per tutti sembrava un pesce d'aprile ma in realtà era reale e guardate quando è stata lanciata è andata sold out immediatamente, poi c'è stato il rifornimento e quindi adesso si trova quindi comunque è un prodotto appena lanciato sul mercato e dovrebbe durare per un po' di anni. Considerate naturalmente il prezzo che è aumentato perché prima era 170 euro, poi quando c'è stato l'aumento LEGO è arrivata a 199 euro quindi arrotondiamo, attualmente era trovata a 200 euro e le dimensioni della vettura, così vi dico più o meno quelle che sono le dimensioni la lunghezza è di 35 centimetri, la larghezza è di 19 centimetri e l'altezza di 12 centimetri. Ma adesso vi faccio vedere perché poi la macchina in realtà può essere strutturata e costruita in maniera differente quindi ci sono più opportunità e vi anticipo già questa cosa, così ve la dico adesso e poi la ripetiamo all'interno del video può anche essere illuminata con naturalmente portali di terze parti, ricordo sempre che andremo a realizzare un contenuto ad hoc quindi prima di acquistare da portali di terze parti fermatevi, attendete il nostro video, valutate quello che vi diciamo noi e poi decidete perché ci sono alcuni portali che vendono comunque illuminazioni scadenti mentre quello che consigliamo noi è il numero 1 in assoluto ma poi lo vedrete presto nei prossimi video comunque può essere illuminata e fa la sua sporca figura da illuminata. Come in ogni video vi mostro anche la parte superiore della scatola, ci fa vedere di lato la DeLorean e qui come potete vedere abbiamo la ruota in rapporto 1 ad 1. Purtroppo la scatola, guardate un po', si apre sempre col vecchio metodo cioè dobbiamo andare a premere qui i pollici e quindi puoi andarla aprire ma c'è sempre quel metodo che poi magari vi mostreremo per poterla aprire senza rompere la scatola. Qui ci fa vedere nuovamente le dimensioni che per l'esattezza sono 11 cm in altezza e 35.5 cm ci sono due action figure che naturalmente parliamo del dottore Eddie Marty McFly e poi qui ci fa vedere anche le tre versioni con cui si può andare a impostare la macchina quella di Ritorno al Futuro 1, quella di Ritorno al Futuro 2 e quella di Ritorno al Futuro 3 quindi naturalmente dipende da quelle che sono le vostre preferenze. Ci fa vedere anche quello che è il mattoncino illuminato, infatti ci mostrava la scatola che ci sono le batterie quindi vuol dire che abbiamo la possibilità di illuminarla già col mattoncino illuminato che è quello che vedete adesso qui sopra, impressione, ok. Ci sono anche degli accessori che vengono forniti con la scatola, con il set e naturalmente abbiamo questa targhetta che rappresenta naturalmente quella che è la macchina stessa guardate può essere montata anche con le ruote messe così oppure con le ruote quindi fantastiche perché si possono ruotare e si possono mettere anche in orizzontale ok, quindi questo diciamo che è la visione della macchina anche sul retro molto molto bella e molto fedele a quella del film. Una volta aperta la scatola troviamo all'interno le buste dei pezzi numerati da 1 a 11 per agevolare la costruzione, ci sono anche le buste 4 bis quindi 11 bis e una contenente le ruote il parabrezza e i cavetti per un totale di 14 buste poi ci sono naturalmente gli adesivi, non molti al dire vero, e il libretto delle istruzioni un bel volume con una parte introduttiva riguardante la trilogia e la realizzazione di questo modellino sparse tra le varie pagine poi troviamo anche aneddoti sul film cosa molto importante, i due personaggi, quindi le due mini action figure rappresentano Marty McFly e il Dr. Brown, il Doc, nel 2015 perché dovete considerare che già era stato lanciato un set nel 2013 dove c'erano le versioni di entrambi nel 1985 quindi nel vecchio set erano le versioni dell'85 in questo nuovo set sono le versioni del 2015 alcuni dettagli importanti, nella vettura mancano i vetri nelle portiere e poi rispetto naturalmente alla produzione originale quindi la macchina originale, consideriamo sempre che un set Lego abbiamo notato che i bordi del pannello frontale essenzialmente quelli dei fari, ok? sono un po' obliqui, mentre nella Delorean reale sono più quadrati naturalmente è importante perché molto del fascino della vettura sta proprio nella parte frontale, ok? quindi diciamo cambia leggermente questa cosa però noi l'abbiamo costruita questo è un set che abbiamo deciso di tenere chiuso ma noi l'abbiamo costruita ed è davvero davvero divertente da costruire e bella da vedere tra l'altro nel manuale stesso a un certo punto dovete decidere come continuare a seconda di come volete procedere per esempio nella macchina del primo film c'è quest'asta che io non so se riuscite a vedere ma comunque c'è un'asta mentre quella del secondo film vi ricordo che abbiamo la possibilità di andare ad inserire le ruote in maniera orizzontale ok? e poi come potete vedere gli accessori possono essere messi anche nella macchina di ritorno al futuro 3 quindi a seconda di quale è stato il vostro film preferito potete andare a montare questa macchina anzi una cosa che vi chiedo di fare è di lasciare un commento qui in basso facendoci sapere qual è il vostro film preferito dei 3 Back to the Future ok? e come monterete la vostra Delorean fatecelo sapere nei commenti qui in basso con questo video abbiamo terminato ci vediamo in un prossimo video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un bel like al video e attivate la campanellina di tutte le notifiche noi ci vediamo in una prossima fantastica recensione dedicata al mondo del Lego da parte di Lego Ita ciao e a presto